Ha suscitato un certo clamore il video che ritrae la bellissima Eneike Ribelli, figlia di Ornella Muti, mentre si trova in macchina e, per così dire, si mangia una banana, la prende in bocca, la fa scevolare in tutto il suo cavo orale e la assapora. La bellissima figlia di Ornella Muti, mette in sottofondo la musica, dei rumori di gente e poi risponde dicendo, ma che cazzo, non si può nemmeno mangiare una banana in santa pace. Insomma, il video ovviamente è passato a livello web, diventando brevemente virale e ha veramente scatenato molti commenti, anche commenti piuttosto espliciti, perché, secondo alcuni, ma non tutti, il video in cui lei mangia una banana potrebbe essere un'allusione all'organo genitale maschile, secondo, ripeto, alcune persone, ma non, ripeto, non secondo la mia opinione. Però il video comunque è molto piaciuto, è molto stato criticato da alcuni, ma da altri elogiato. Che vi piace o no? È comunque un video molto breve, dura qualche seconda, perché è breve, ma comunque intenso, che lascia, insomma, qualcosa nello spettatore. Emozioni probabilmente lunghe, alte, ma al tempo stesso anche piacevoli. Probabilmente lo scopo di questo video è quello di far parlare di sé. Implicitamente, probabilmente, la bella Naika vuole far parlare di sé, vuole essere, per così dire, considerata come un personaggio, tra virgolette, il controtendenza, secondo la mia opinione, e ci riesce bene questo po' solo che deporre al suo totale favore. Bene, comprimenti a Naika, brava, sei veramente una grande banana lover, come alcuni ti hanno etichettato. Brava, mangio tante banane, ti fanno bene dei banane, vedo che sei molto brava con la bocca, nel senso di assapolare la banana. Brava, continua così, e soprattutto, mangio tante banane, perché contengono tanto potassio, e sei molto brava anche a utilizzare, appunto, la tua bocca, in senso, diciamo così, mangiando questo frutto così, bello e piacevoli. Un saluto e a presto.